... Studenti a lezione di legalità con Di Pietro, l'ex magistrato ha incontrato a Campobasso gli alunni del Pilla, uno dei simboli di Mani Pulite, e tornato a parlare dell'inchiesta che lo ha consegnato alla storia della giustizia italiana. A rischio i fondi per la Fondovalle Fresilia, un milione e duecentomila euro potrebbero andare perduti se i lavori alla strada non saranno assegnati entro l'anno. Il tratto collega Frosolone a Civitanova del Sannio. Violenza sulle donne quando il fidanzato usa l'acido, la terribile esperienza di Jessica Notaro raccontata dalla vittima, Isernia, l'incontro tra gli studenti del cuoco Manu Pella e la ragazza sfregiata. Presentato il cartellone degli eventi a Capracotta, una delle località invernali simbolo dell'Appennino centrale, una serie di iniziative per allietare le feste, il 19 al Foro Italico a Roma la consegna del collare d'oro. L'impresa del Campobasso che passa a Matelica nelle Marche, i rosso-blu battono la capolista che perde anche il primato. Il Cesena passa in testa, sconfitte Isernia e Agnone. Buon pomeriggio dalla redazione, un saluto a tutti voi. Dunque è tornato a parlare di Mani Pulite, l'inchiesta che lo ha consegnato alla storia della giustizia dell'amministrazione giudiziaria italiana, l'ex magistrato Antonio Di Pietro, uno dei simboli di quella stagione. Lo ha fatto nel corso dell'incontro avvenuto questa mattina a Campobasso all'Istituto Pilla con gli studenti. Si è parlato naturalmente di legalità sullo sfondo, le vicende anche dell'attualità di una società a sostenuto Di Pietro, che non è poi tanto cambiata da allora. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Tangentopoli, Mani Pulite e legalità, gli studenti delle quinte classi dell'Istituto Pilla di Campobasso si sono confrontati su questi temi con un ospite d'eccezione, l'ex PM Antonio Di Pietro, un incontro al quale i ragazzi hanno partecipato con particolare attenzione, dimostrando interesse per un tema che in Italia resta di attualità, un botta e risposta tra gli studenti e Di Pietro, che non si è sottratto le domande e la curiosità dei ragazzi. Sì, è stata una bella lezione nel nostro caffè letterario, diciamo proprio un escursus storico e anche giuridico. I ragazzi, devo dire, che hanno partecipato veramente in pieno. Per noi è stato particolare perché è un po' rivivere quel periodo storico, mentre invece loro, pensiamo, sono nati dopo quel periodo. Ho cercato di far capire ai ragazzi della scuola che non bisogna aspettare il magistrato per poter avere legalità. Quando arriva il magistrato vuol dire che la legalità è già stata violata. Ma ho cercato soprattutto di far capire loro che non conviene fare i furbi e violare la legge, perché se vuoi fare il furbo per vincere su un altro, ci sarà sempre qualcun altro che vorrà vincere su di te, essendo ancora più furbo di te. Allora è meglio che tutti rispettino la legge e pretendono soprattutto che rispettino la legge. Il messaggio fondamentale che ho voluto mandare a questi ragazzi oggi è di fronte alla legalità non aspettate che un altro reagisce. Reagite voi stessi, andate all'autorità giudiziaria a denunciare i fatti e pretendete che sia rispettata la legge. Ma Tangentopoli è finita? Nell'eterna lotta fra guerra e male c'è sempre stato chi ha violato o viola la legge. La forza dello Stato sta nel saper combattere l'illegalità e nel saper far capire che la legalità non paga. Nel nostro paese questo è il vero problema, non è la mancanza delle leggi, le leggi ci sono. E' la mancanza della pena se non rispetta la legge. Tutti sono convinti che tra un amministia, un indutto e una legge ad hoc si riesce a raggiungere l'impunità. E questo dà un senso di sconforto anche a chi la legge vorrebbe rispettarla. Andiamo avanti, parliamo del Consiglio regionale che è stato in riunione questa mattina ed è in riunione per approvare una serie di documenti contabili, tra questi il rendiconto finanziario del 2017 e l'assestamento di bilancio. in un'aula semideserta, per la verità il relatore e il consigliere Dilucente ha illustrato i contenuti dei documenti contabili approvati a maggioranza. I lavori del Consiglio regionale proseguiranno anche domani con l'ordine del giorno stabilito dalla conferenza dei capigruppo la scorsa settimana. C'è un problema che riguarda la viabilità regionale, uno dei tanti per la verità, quello che interessa la Fresilia nel tratto di collegamento tra Frosolone e Civitanova del Sannio. Bisognerebbe completare i lavori ma soprattutto farlo in tempi rapidi, i lavori dovrebbero essere assegnati entro il 31 dicembre di quest'anno, pena il ritiro, la perdita dei fondi, 1 milione e 200 mila euro. Ce ne parla Pasquale Di Bello. 1 milione e 200 mila euro è questa la cifra che rischia di essere persa definitivamente per il completamento del secondo lotto della strada Fresilia, quello che collega la zona industriale di Frosolone a Civitanova del Sannio. A giocare negativamente sul futuro di questa travagliata e strategica arteria stradale sono le lungaggini burocratiche che tengono incagliate in regione somme che qualora non venissero spese entro il 31 dicembre di quest'anno cadrebbero in perenzione, tornando al mittente, ovvero allo Stato centrale, per prendere altri lidi e direzioni. Quello che è certo è che il Molise, i residenti e le aziende allocati in questa zona perderebbero per sempre questo treno. Un assurdo amministrativo e politico, specie laddove tra le carenze strutturali del Molise viene sempre annoverata la rete viaria dissestata e colabrodo. Sarebbe davvero paradossale perdere soldi e opportunità in un caso come questo, dove è tutto pronto per la realizzazione dell'opera. Un collegamento, come ha ricordato bene il sindaco di Civitanova del Sagno, Roberta Ciampittiello, che può fare la differenza tra la vita e la morte nel collegamento, specie per le malattie tempo dipendenti tra i paesi dell'area interessata e i presidi ospedalieri. Per noi questo non è lo sbarramento per il collegamento a Frosolone, è lo sbarramento per il collegamento a Campobasso, che è il cuore nevralgico della regione in cui ci sono tutti i servizi, in cui soprattutto c'è l'unico ospedale di secondo livello della regione. E quindi mentre inizialmente questo tratto era immaginato per il trasporto delle merci tra la Campania e l'Abruzzo passando per il Molise, oggi rappresenta un punto nevralgico soprattutto per i territori dell'Alto Molise, di tutto l'Alto Molise, per arrivare in tempi brevi e soprattutto anche in sicurezza a Campobasso, perché noi per arrivare a Campobasso dobbiamo attraversare delle strade comunque in frana, passando per Bagnoli o Tortuose, passando per Frosolone, ma ci sono realtà ben più disagiate di noi, i quali per esempio già la vicissima Pietrabbondante, che è a 5 km da Civitanova, Pescolanciano a 8 km da Civitanova, ma che deve uscire per Isernia per raggiungere Campobasso, quindi deve percorrere un tratto di oltre 80 km, in un periodo in cui comunque le condizioni anche economiche della regione sono notevolmente cambiate, quindi anche le difficoltà di molte famiglie, raggiungere Campobasso vuol dire anche consentire ai giovani di raggiungere l'università. L'auspicio del sindaco di Civitanova, ma verosimilmente di tutti i sindaci e i cittadini dell'area, è che questa opportunità non vada persa. Noi speriamo che si riesca a risolvere quello che a quanto pare, almeno al momento, rimane un problema di natura burocratica, perché i lavori che ci sono stati almeno indicati, non sono di così grande entità. Allo Stato dell'Arte tutti attendono una risposta quindi dagli uffici regionali, compreso il commissario straordinario per la Fresilia, Gavino La Storia. Il tempo a disposizione è pochissimo e qualora venissero persi i fondi, la ditta già incaricata potrebbe mettere in campo azioni di rivalsa. Soprattutto se dovessero verificarsi episodi funesti legati al trasporto di pazienti colpiti da malattie tempo dipendenti come infarto o ictus, c'è da chiedersi chi se ne assumerebbe la responsabilità. Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio in Commissione Vigilanza RAI sulla proposta di taglio progressivo del Fondo per l'Editoria confermano la volontà di colpire il pluralismo dell'informazione. Il Governo si assume la responsabilità di assestare un colpo mortale a numerose piccole testate, espressioni di minoranze o di determinati territori, tra queste anche telemolise. Numerosi giornalisti e lavoratori del settore perderanno il posto di lavoro con buona pace per chi come il Ministro Di Maio continua a parlare di lotta al precariato in modo strumentale e con evidenti finalità di propaganda e di autocelebrazione. Lo affermano in una nota la Federazione Nazionale della Stampa e l'Ordine dei giornalisti che si sono anche appellati al Capo dello Stato. E parliamo di economia all'indomani del ennesimo rapporto sul reddito medio stavolta delle province italiane. Una fotografia che spacca in due l'Italia. Il Presidente di Assindustria Molise parla di una situazione complessa dell'economia in regione. Sentiamo. Secondo alcuni osservatori, il dato potrebbe anche mettere in crisi il reddito di cittadinanza. Il rapporto annuale JP Geography fotografa la capacità retributiva delle 20 regioni italiane divise per province. Uno scatto che, come per il passato, restituisce un'Italia a velocità doppia se non tripla e mette ancora più in risalto un sud che in alcune zone arranca ancora e fatica a mantenere se non il passo delle città del nord che appaiono irraggiungibili almeno quelle del centro Italia. La situazione di Campobasso e Isernia è in pratica ferma. Rispetto al 2017, il capoluogo di regione ha avanzato solo di una posizione passando dalla settantasettesima alla settantasei e quello di provincia, che era novantaseiesimo, occupa adesso il novantaquattresimo gradino. Ma entrambe le città molisane sono lontanissime dai redditi delle città e dei capoluoghi dell'Italia settentrionale. La retribuzione media annuale al nord è di poco superiore ai 30.500 euro, quella dell'Italia centrale di 28.500, mentre al sud, isole comprese, lo stipendio medio è di 25.961 euro. Ma intanto, a ribadire questo aspetto, è stato il presidente regionale di Confindustria, Vincenzo Longobardi, che ha definito complessa la situazione dell'imprenditoria e quindi dell'economia in Molise. Longobardi, a margine di un incontro che si è svolto a Termoli, ha parlato di una deficienza elevata delle infrastrutture in Molise e ha sposato la TAV, sulla quale ha spiegato viaggia il 15-20% del traffico merci e il cui impatto ambientale non è quello che viene raccontato. Un treno merci di un chilometro è in grado di sostituire nel trasporto 65 tir. La differenza inquinante è sostanziale. Poi il riferimento al Molise, dove, ha aggiunto il presidente degli industriali, la situazione produttiva non è positiva. Ci sono parametri in discesa, come nel resto dell'Italia, ma la frenata tocca particolarmente alla nostra regione, che, ha concluso il numero uno di Via Cardarelli, si distingue per l'export, visto che ci sono alcune grandi aziende che esportano l'80% del prodotto finito. Si è parlato di opportunità di sviluppo alla luce della macro-regione adriatico-ionica invece a San Salvo. Ce ne parla in questo servizio Manuela Iori. Opportunità di sviluppo e strategie di crescita della macro-regione adriatico-ionica, formata da otto paesi vicini e che hanno tratti comuni dal punto di vista storico, culturale e antropologico. Si tratta dell'Italia, dell'Albania, della Bosnia-Herzegovina, della Slovenia, della Croazia, della Grecia, della Serbia, del Montenegro. Territori che possono crescere insieme puntando su economia e turismo. Se ne è parlato a San Salvo in un incontro organizzato all'Istituto Professionale Mattioli, moderato dal giornalista Luigi Spadaccini, dove Fabio Travaglini, direttore dell'Unione dell'Industria e delle piccole e medie imprese, ha presentato il suo volume sull'argomento. Quattro pilastri di sviluppo su cui investire. Infrastrutture, riconnettendo i territori via mare e via terra. Blue Group, ossia crescita blu, tutta l'economia legata dunque al mare. Ancora sostenibilità ambientale e turismo sostenibile, all'interno del quale, ad esempio, l'Europa ha chiesto di creare cinque nuovi itinerari macroturistici regionali. La Uni PMI, Feder Terziario Abruzzo, ogni anno promuove uno studio sul territorio, approfondito con i dati socioeconomici e statistici. Quest'anno ci siamo voluti dedicare alla strategia per la macroregione Adriatico-Ionica, che è la strategia unitaria di un'area, che è quella degli stati che si affacciano sull'Adriatico e sull'Ognonio, che presenta delle caratteristiche unitari dal punto di vista economico e culturale e grandi potenzialità per lo sviluppo. Tenendo conto che su oltre 6 milioni di imprese della macroregione, circa 5 milioni sono imprese italiane, si capisce come per le nostre piccole e medie imprese possono aprirsi dei grandi scenari in un mondo in cui quello della globalizzazione si va sempre più veloce e ci si apre a nuove professionalità. Tra i relatori anche Nicola Patrizzi, presidente nazionale di Feder Terziario, a cui fanno capo 96 mila imprese, fresco d'incontro al mese con il ministro Di Maio, a cui ha chiesto una riforma efficace della pubblica amministrazione, che semplifichi la vita delle imprese, agevolando soprattutto l'accesso ai fondi strutturali europei. E agli studenti in platea ha parlato proprio dell'importanza delle risorse comunitarie. Rappresentano oggi, soprattutto per l'Italia, le uniche risorse liberi dai vincoli di bilancio dello Stato nazionale, che come sappiamo è condingentato per effetto delle politiche di restrizione generate al debito pubblico. In questo quadro le risorse comunitarie, che tornano indietro sostanzialmente dall'Unione Europea sotto diverse forme, quindi in termini di finanziamenti che vengono articolati nei programmi operativi nazionali o nei fondi interregionali, sono effettivamente le uniche risorse liberi che in maniera complementare danno la possibilità di sostenere degli investimenti utili allo sviluppo del Paese, in quanto sono multitematiche. Fondamentale anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro la formazione su cui investe l'Unione dell'Industria e delle piccole e medie imprese. La formazione è molto importante e cardina in questo momento storico, perché abbiamo una società che si sta evolvendo e si evolve velocemente. Pensiamo un attimo alle tecnologie, alla robotica che sta prendendo il sopravvento sulle professioni e quindi noi come organismo di formazione e come ente di rappresentanza dobbiamo innanzitutto aiutare i ragazzi per adeguarsi a nuove forme professionali che si implementeranno negli anni ad avvenire, ma soprattutto dobbiamo aiutare le aziende a riqualificare i lavoratori. Ricordato a San Felice del Molise Antonio Zara, il finanziere molisano, caduto il 17 dicembre 1973 nella strage di Fiumicino, alla cerimonia del 45esimo anniversario che si è svolta nel Paese Natale della Medaglia d'Oro al Valor Militare, sono intervenute le massime autorità della regione. è stata deposta una corona d'oro ai piedi del monumento che raffigura Zara, al quale è stata anche intitolata la caserma della sede del comando regionale. Il Vescovo De Luca ha celebrato la messa in suffraggio in municipio al termine del quale è stato ricordato l'atto d'eroismo del giovane finanziere in servizio quella mattina all'aeroporto di Fiumicino, trucidato nel tentativo di opporsi a un commando di terroristi che aveva in programma il dirottamento di un aereo di linea. Un giovane di 26 anni di Campobasso è stato denunciato dai carabinieri per spaccio di cocaina e un altro 26 anni invece segnalato come assuntore. Tornare a garantire una sanità equa e solidale rafforzando gli organici e la rete di emergenza è la proposta dell'Ordine dei Medici di Isernia. Sergio Di Vincenzo. L'approvazione del bilancio durante l'assemblea annuale di scena alla Palazzina Liberty di Venafro ha offerto all'Ordine dei Medici di Isernia anche lo spunto per riflettere sulle problematiche della sanità. Per il Presidente Fernando Crudele è necessario che il servizio sanitario torni a dare risposte concrete ai cittadini. Ai Isernia, Dagnone e Venafro occorre rafforzare la rete dell'emergenza in difficoltà anche per via della carenza di personale. Proprio quest'anno cade il quarantennale dell'attivazione del sistema sanitario nazionale ed è il caso di sottolineare ancora una volta la grande riforma che fu fatta 40 anni fa con un sistema equo, solidale e universale. Noi nella nostra regione dobbiamo sottolineare questo passaggio e per fare questo bisogna dare dei servizi essenziali ma efficienti alla popolazione molto anziana della nostra regione. E per parlare della nostra provincia io continuo a battermi sui tre poli Agnone, Venafro e Isernia che devono essere incentivati. Bisogna pensare di dare più servizi da partire dal pronto soccorso al servizio di emergenza ma anche nei reparti. Tanti reparti stanno chiudendo oppure stanno diventando ambulatori. Nessuno, meglio dei medici, conosce le reali problematiche della sanità poiché le tasta con mano ogni giorno ha detto ancora crudele pronta a collaborare con i nuovi commissari con proposte e soluzioni. Siamo un organo sussidiario dello Stato quindi siamo accanto agli enti locali e vogliamo dare il nostro contributo. Abbiamo delle idee, abbiamo delle soluzioni a problemi che noi come medici viviamo tutti i giorni. Durante l'assemblea sono stati anche consegnati dei riconoscimenti ai medici appena iscritti a quelli che hanno raggiunto i 40 anni di attività e a coloro che hanno tagliato il traguardo dei 50 anni. Sono due altomolisani Elisa Donofrio, nota per le sue missioni in Africa e l'ex sindaco di Agnone, Gelsomino De Vita. Sono tanti ma non me li sento devo dire la verità continuo ad essere ancora diciamo nel campo medico faccio la professione libera ma posso assicurare che la mia vita professionale è stata stupenda. Siamo qui a dimostrare la nostra presenza e a dire ai ragazzi che oggi giurano a cui noi lasciamo il testimone che la vita professionale è una cosa stupenda però è piena di responsabilità la figura del paziente è sacrosanta. C'è stato un altro incontro molto significativo a scuola a Isernia questa volta al manuppella al cuoco manuppella tra gli studenti e una ragazza che sta diventando suo malgrado simbolo della violenza sulle donne parliamo di Jessica Notaro sfregiata dal suo ex fidanzato il servizio è ancora di Sergio Di Vincenzo Jessica Notaro già Miss Romagna è una destratrice di delfini a gennaio dello scorso anno il suo ex compagno che non si rassegnava alla fine della loro relazione le ostionò il viso con l'acido ma lei ha subito trovato la forza di reagire ha mostrato il suo volto in pubblico al Maurizio Costanzo Show poi ha partecipato a Ballando con le stelle sempre con un obiettivo essere un esempio per le tante donne vittime di violenza ed è stato proprio questo il motivo che l'ha spinta a partecipare all'incontro Non Una di Meno organizzato dal liceo Cuoco Manuppella di Isernia è importante parlare con i giovani perché a loro volta a casa ne parlano con le famiglie quindi se ci sono degli scherzi in famiglia è giusto che i ragazzi si rendano conto che non è quello l'equilibrio corretto da mantenere all'interno di un nucleo familiare Ha dovuto superare una prova molto difficile dove si trova la forza e il coraggio? La forza si trova negli amici i parenti, le persone che ti vogliono bene che ti danno una vibrazione positiva è importante imparare a circondarsi di persone che ti fanno stare bene che ti danno energia non che te ne tolgono Cosa si sente di dire a questi ragazzi? Di imparare a volersi bene e avere rispetto per se stessi quando loro impareranno a rispettarsi e a volersi bene lo faranno anche gli altri di conseguenza Jessica aveva già denunciato il suo ex per stalking se la cavò con un ammonimento evidentemente la strada da fare è ancora lunga ma la prevenzione può aiutare Si potrebbe lavorare molto meglio sulla prevenzione ci sono tanti piccoli accorgimenti che darebbero sicuramente la svolta la strada è ancora lunga però ci proviamo E si fa prevenzione anche parlandone nelle scuole dove i ragazzi per fortuna appaiono molto interessati Un bambino una volta dell'elementare mi ha chiesto ma riuscirei mai a perdonarlo? Bambino dell'elementare ci si aspetta che magari forse questo tema sia anche troppo pesante importante per lui e invece ha fatto la sua riflessione ed è riuscito a far riflettere anche me ho risposto che finché non c'è pentimento non ci può essere il perdono Durante l'incontro di Scena alle Cave è stata inaugurata anche una panchina donata dal comune alla scuola è stata dipinta di rosso è il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne è stata dedicata alla giovane sernina Stefania Cancelliere uccisa dal suo ex marito Sono otto i vincitori di altrettanti premi in denaro dell'estemporanea di pittura organizzata dall'Associazione Crociati e Trinitari gli artisti che hanno partecipato al concorso Campobasso 1587 Odio, Amore e Pace si sono cimentati nel raffigurare con varie tecniche i figuranti dei crociati e trinitari che in abiti settecenteschi hanno partecipato all'edizione speciale dei misteri che si è svolta ricorderete il 2 dicembre scorso i lavori saranno esposti in una mostra che rimarrà aperta fino al 22 del mese la iniziativa sarà illustrata domani nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Cannavina alle 11 e a Termoli invece con gente di mare premiati cittadini e studenti che si sono contraddistinti è diventato ormai un appuntamento carico di attesa e di emozione quello che l'amministrazione comunale di Termoli organizza ogni anno per i suoi cittadini che si sono distinti nello studio nel lavoro, nelle arti o che hanno portato lustro al nome di Termoli nel mondo il premio Gente di Mare ha spento 31 candeline la cerimonia si è svolta nei locali della Chiesa di Santa Maria degli Angeli 17 professionisti premiati tra medici, avvocati, manager e sportivi 67 gli studenti che si sono distinti nelle loro scuole per i voti eccellenti premiati anche i neolaureati tra loro il vice sindaco Maria Chimisso che ha preso la seconda laurea in beni culturali e turismo tra coloro che hanno ricevuto la prestigiosa pergamena incorniciata c'è Oscar Delena presidente dell'Archeoclub che si è contraddistinto per le sue abilità nel campo della ricerca e dello sviluppo ma anche per le sue doti di scrittore e sceneggiatore con l'Archeoclub da diversi anni accompagna i turisti alla scoperta del Borgo Antico sono molto emozionato perché nemmeno a farlo apposta dieci anni fa avevo accompagnato il mio carissimo amico Carlo Cappella a ritirare questo premio non avrei mai pensato che dieci anni dopo sarebbe toccato anche a me in realtà in questi ultimi 15 anni da quando faccio parte dell'associazione dell'Archeoclub di Termoli di cui attualmente sono il presidente da cinque anni mi sono dato tantissimo da fare per pubblicizzare questa nostra bella città di Termoli ogni anno io accompagno all'incirca 2500 persone in visita al Borgovecce quest'anno fino ad oggi ho accompagnato 45 gruppi di turisti di cui 200 venuti dall'estero da 14 nazioni quindi è un orgoglio per me praticamente prendere questo premio perché diciamo che mi onora per tutto quello che sto facendo per questa città un premio che affonda le sue radici anche in quelle dei mestieri che si tramandano di generazione in generazione è il caso di Francesco Guidotti che da decenni investe a Termoli con la sua azienda nautica dalle colture offshore e in ultimo con il nuovo collegamento con la Croazia io vengo da una generazione di pescatori dopo abbiamo fatto la diversità ci siamo staccati dalla pesca e stiamo lavorando nell'off show io ho quello che ringrazio al Padre Aterno innanzitutto che ho una pace nell'attività e nella pace nella famiglia che ci distingue nel nostro lavoro noi da sette generazioni stiamo sul mare e speriamo di continuare con la nuova generazione durante la cerimonia è stato assegnato anche il premio agosto in fiore lanciato la scorsa estate dall'amministrazione e che ha premiato con una somma di 700 euro il balcone più fiorito del paese vecchio il concorso è stato vinto dalla signora Vittoria D'Angelo la cui abitazione di Vico San Pietro è meta fissa per i turisti per una foto ricordo e dopo aver partecipato alla presentazione del libro di fotografie di Federico Labella nell'Isernia di fine ottocento la consigliera regionale Filomena Calenda ha deciso di farsi promotrice alla regione di un'iniziativa per la diffusione del volume con le istantanee che sarà messo a disposizione degli istituti scolastici superiori di primo e secondo grado della città e sempre a Isernia Candido Paglione sindaco di Capracotta ha presentato gli eventi della località scistica vediamo grandi novità per la stagione invernale a Capracotta senza dimenticare che il 19 dicembre lo sciclub del paese più alto del Molise riceverà il collare d'oro dal CONI le novità sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Candido Paglione da Agostino Angelaccio dai giovani della cooperativa che gestirà Prato Gentile e dal rappresentante della locale ci sono delle novità perché non c'è soltanto lo sci di fondo ci saranno tante altre cose che questa cooperativa è in grado di offrire perché ci sono tutte le professionalità che servono allo scopo quindi ci saranno attività con le ciaspole ci sarà inoltre insomma l'apertura di un altro importante elemento di attrazione turistica che è il Baby Snow Park e questo è dedicato ai più piccini insomma Prato Gentile diventerà una sorta di spiaggia sulla neve con la neve quindi mi piace pensare a una cosa del genere anche l'avvio della messa in funzione di un tapirulan che darà la possibilità anche a chi vuole utilizzare i bob senza intralciare le attività all'interno delle piste di fondo per Monte Capraro rimangono ancora delle criticità abbiamo una interlocuzione aperta con il presidente della regione stiamo cercando di far capire quanto sia importante all'interno dell'economia più complessiva del turismo invernale di Capracotta anche il funzionamento di quella piccola stazione per lo sci alpino per Monte Capraro i soldi ci sono perché c'è una linea di finanziamento all'interno del patto per il Molise che si chiama turismo montano che ha una capienza di 12 milioni di euro noi è da lì che vorremmo attingere i fondi per realizzare non solo il centro federale per lo sci di fondo ma anche per mettere in sicurezza appunto Monte Capraro mercoledì prossimo a proposito di sci di fondo a proposito del nostro importante Sciglib che ha ormai 104 anni mercoledì prossimo il 19 dicembre a Roma nella sede del CONI ci sarà il conferimento di questa prestigiosissima onorificenza che è il collare d'oro al merito sportivo che è la più alta onorificenza che si possa dare da parte del CONI bene ci fermiamo vi lascio alle previsioni del tempo ci ritroviamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti per questa edizione è tutto grazie e buon pomeriggio grazie